La Germania non ha avuto la fortuna mica, il campione del mondo Winkler, è stato l'unico in campo a compiere il percorso netto, ma i suoi compagni non gli sono stati alla pari. I cavalieri italiani, pur incorrendo in qualche penalità, sono stati pari alla loro fama. Piero Dinzeo ha confermato la sua alta classe. Il giovane Graziano Mancinelli ha riportato un altro successo personale. Piero Castellini si è battuto con onore, Raimondo Dinzeo è stato il fuoriclasse di sempre. La squadra italiana ha vinto nettamente. A lei gli applausi di Marisa Allasio, vicino al suocero Conte Calvi di Bergolo. La contessa di Campello ha premiato vincitori e vinti.